Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la terza maglia del Manchester City per la stagione 22-23 in edizione player, la maglia indossata dai calciatori. Il nuovo kit presenta un design a cerchio sfocato come tributo all'ape operaia di Manchester. In contrasto con la classica maglia da casa celeste e la divisa da trasferta rossonera, il Manchester City ha optato per una terza maglia verde neon per dare alla propria collezione di maglie una nuova brillante prospettiva di vita per la stagione. Puma l'ha lanciata con lo slogan Play Forever poiché la maglia rende omaggio a una diversa forma di gioco associata al Manchester, la street art. Il corpo principale verde lime è contrastato con cerchi neri che sfocano i bordi che rendono omaggio all'ape operaia di Manchester. Il badge city è abbinato al logo Puma sulla parte superiore del torace per completare il look vivace. Wow! Questa è una delle maglie più belle di questa stagione secondo me. Nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle fatta veramente molto bene con dei colori stupendi con queste sfumature veramente molto belle con tutte le patch attaccate nel modo giusto. Peraltro al costo che vedete qui sopra veramente un affare da non perdere. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che vi ricordo ha un'ottima qualità e dei tempi di spedizione veramente eccezionali. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Spero nel frattempo che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti.